Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare sulla rete autostradale regionale. Segnaliamo la presenza di personale su strada per lavori in A1 tra Calenzana e B1 Variante, tra Firenzuola e Badia, tutto in direzione nord. In A11 controllo della velocità tra Chiesina e Monte Catini Terme nella carreggiata verso Livorno. E arriviamo in Fipilì per lavori questa notte. Il tratto Montelupo-Ginestra sarà chiuso nelle due direzioni in orario 22.6. Prima di salutarci per il traffico ferroviario e per la presenza di persone strane e non autorizzate lungo la linea ferroviaria tra le stazioni di Massarosa e Lucca, i treni della linea Viareggio-Monte Catini Terme potranno subire ritardi e variazioni. Muoversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!